buonasera a tutti carissimi amici ed amiche come va come state tutto bene io manco un po dal canale perché scusate ecco come potete capire sono stata colpita dall'influenza e quindi non mi è stato proprio possibile ma non avevo neanche le forze per girare un video adesso sto molto meglio quindi sono iniziata ad uscire riprendere lavoro e nella buca ho trovato il volantino di acqua e sapone quindi non ne ho proprio resistito a condividerlo con voi perché praticamente da lunedì 12 infatti le offerte sono dal 12 al 25 febbraio oltre a esserci tante cosine simpatiche per san valentino fra di cui gli omaggi ci sono il set di due tazzine del brand appunto brandani con scritto love guardate che sono carine e quindi ci sarà questa promozione a fronte di una spesa minima da 20 euro ma voglio dire con tutte le cose che ci stanno da acqua e sapone detersivi prodotti in offerta raggiungere 20 euro è un attimo ma cominciamo subito con lo sfogliare questo volantino allora vediamo la prima pagina e troviamo tutti i profumi sapete che d'acqua e sapone trovate anche profumi articoli per capelli make up quindi c'è davvero di tutto io adesso faccio così una panoramica però magari se vi interessa fate un fermo immagine ci sono anche tanti prodotti quindi tanti tante confezioni a prezzi davvero ottimi per fare un pensierino un regalino vostra alla vostra moglie al vostro marito fidanzato in su insomma chiunque esso sia ci stanno davvero tantissimi prodotti guardate che carina la palette non mette a fuoco bene che forse adesso sì ecco qui troppo troppo carina veramente guardate questa quanti colori che ha prezzi ottimi vediamo allora qui per quanto riguarda il make up infatti debbi c'è lo sconto del 40 per cento su tutta la linea io devo comprare la matita per sopracciglia e una matita contorno labbra quindi andrò sicuramente poi qui c'è vediamo un attimo la linea make factor sempre accessori e make up ma i belli ecco qua matita per sopracciglia infatti questo il gloss l'infallible di l'oreal a 13 euro e 50 direi che è un ottimo prezzo poi vediamo invece la sezione appunto prodotti per l'igiene quindi il DAV e i deodoranti e tutta la linea neutron roberts in offerta i provenzali ci stanno anche bagnoschiuma vital e malizia il felcio azzurra a 79 centesimi il talco in busta che è buonissimo c'è ha una profumazione buonissima i deodoranti licia intesa la linea shampoo questo qui buonissimo lo shampoo al cocco troppo troppo buono splendor la linea gliss e 69 e c'è anche la maschera ottimi ottimi prezzi davvero c'è da tenere in considerazione questa qua ad esempio la maschera 4 19 la maschera per capelli è ottima e anche il trattamento cos'è questo trattamento a siero poi vediamo qui cosa abbiamo questi prodotti sempre splendor intesa quindi prodotti per capelli per la cura dei vostri capelli panten i prodotti Nivea in promozione direi che ci sta veramente l'imbarazzo della scelta hai voglia che si raggiungono i 20 euro per quanto riguarda l'igiene orale quindi prodotti Helmex che sono veramente buoni soprattutto quelli per denti sensibili ci sta anche la linea bambini quindi prodotti Nivea pannolini salviettine questo qua sapone per le mani vediamo cosa troviamo le ricariche di sapone liquido 1 euro e 59 il midra il dabbo 1 euro e 25 poi ci sono rasoi detergente intimo la linea cigli io ho provato le salviettine rosa e sono davvero ottime molto molto delicate quindi se avete l'occasione provateli penso che ormai d'altra parte a questa pone si trova davvero un po' dappertutto per quanto riguarda la cucina i rotoloni e poi ci sono anche queste quali tegliene alluminio che hanno sempre un buon prezzo e per quanto riguarda i detersivi io devo prendere le capsule per la lavastoviglie e ci sta veramente l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda la lavastoviglie e poi i panni Vileda guardate bene tutti i panni Vileda sono in offerta anche Arix questo qui questo è il si chiama Dianex vabbè è tipo una pelle d'ano esatto tutto fare fanno tutto fare poi andiamo avanti con Swiffer i panni che sono ottimi sto facendo proprio davvero una panoramica sui detersivi questa linea qui magic mister magic lava fornelli lava frigo lava forno e avete provati io mai provati andiamo qui con mocio il panno panno Arix come vi dicevo mastro lindo alba 89 centesimi buonissimo questo iris quello bianco ottimo questo è davvero un ottimo prezzo questo è il seal cos'è un multiuso il rio casa mia 1 e 49 il breffa 2 59 vediamo stiamo quasi finendo qui di odoranti quindi linea casa il gled a 3 19 questo non ho mai provato eppure il viola mi intriga pulirapid ottimo 1 e 55 pulirapid doccia gel ancora mastro lindo si allastira bene e poi qua ci sono i prodotti per la lavatrice quindi cura lavatrice la coloreria omino bianco pace a 2 ore 49 le perle a 3 69 guardate chanteclaire vernell di felce azura anche l'offerta poi ci stanno questi credo che abbiamo finito con chanteclaire 3 ore 19 dash pods e poi tutta questa linea qui svelto coccolino tutti come vedete in promo il cif interessante e se spendete 20 euro ci sono le due tazzine con il piatto due tazzine con piattino in vetro love me sono carine carine veramente nulla questo è il volantino acqua e sapone mio lunedì mi fiondo lì per acquistare un po di cosine vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di giornata ciao ciao